Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Call of Duty Black Ops 3 Signore, è da tanto tempo che non porto tutti contro tutti sul mio canale E quindi oggi siamo appunto qua Prima ho fatto una partita e l'ho vinta Ho fatto un 30-13, però raga mi sono anche incazzato, ho urlato prima Perché in pratica uno che aveva il WMP me l'ho ucciso con un colpo Era appena spanato, boom, me l'ho ucciso con un colpo Un colpo, ho urlato raga Ho detto ma che cacchio è sto fatto? Cioè ma assurdo, con quello là di livello 218 Ero appena spanato, boom, un colpo e son morto Ma anche in testa, ve lo giuro, ma anche in testa Vabbè, mi sono messo a strelare come se niente fosse Tanto non c'è nessuno in casa, sono solo io ora E allora signori, prima ho utilizzato il WMP E voglio ora utilizzare il menu War Voglio provarlo su tutti contro tutti, che non l'ho mai provato E comunque Red, stiamo su Antid, quindi è una mappa abbastanza grande E quindi ci sentiamo fra pochissimo Ma cambio lobby raga, perché se ne sono andati tutti Andiamo un po' se la troviamo, perfetto Antid, la stessa, vabbè Ci sentiamo fra poco Fra poco si parte fra 3, 2, 1, go Vai, 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 ok Allora, usiamolo così perché io non mi trovo Ah, ma ne siamo 4 5 veramente Va bene Ci stanno comunque Una persona ha fatto la prima kill Ma se io non trovo Cioè, io non trovo gli avversari Poi li trovo proprio mentre salto Ma che cacchio Ah, è stato proprio kill Là Come cacchio ti chiami Dai Quanti Sta qua No, 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 no No, non è possibile Non ci credo Non ci credo Ti odio, kill Eh, kill Come cacchio ti chiami Guarda, questo qua subito è morto Vabbè, in testo l'ho capito Dove è stato sto kill È morto Cacchio Gli avevo fatto un sacco di danni No Mamma ma Ok, vediamo se Ok, la sessione si è riempita Per guardare la sessione Oh, eccolo, eccolo, eccolo Ti pre... No, dai, vabbè Non so dove è andato Un entrato Bella doppia Bella Cacchio mi ha visto Per forza Mi ha visto Mi ha visto Non l'ho sentito Non l'ho proprio sentito L'ho sentito Che si stava avvicinando Quando stava già dentro la porta Oh, ma camperone Yeah, mamma ma Che seccia Guarda Vieni, camperone Agambe Oh, il pezzo di cacca No, vabbè Will, mi hai rotto le scatole pure tu Non è che sta il camper qua No, eh Dai, vieni qua Vieni qua Ti prego Grande Eh, ma Sei un pirla Allora Se mi vuoi uccidere Vieni Vieni Manco io Vabbè Sciallara Andiamo di qua Eccolo Oh Guarda questo Mi si voleva avvicinare Non ci credo Ma do meno male che ho saltato Raga Non ho capito dove stavo Nessuno mi ha visto Mentre sparavo Muori Will, muori Mamma ma Dove sta? Dove stai? Dove sta? No, vabbè raga Non ho capito dove stava A terra Io ho pure visto Ma se mi avevo fatto una scorreggio Ho la bocca quando ho detto pure Cioè Avevo pure visto Se stava a terra Se stava a terra Non l'ho centrato Minchia Eh dai Bello È così Mentre sparo Bellissimo Un mostro Sei Muori Dalla testa in giù Mamma ma Allora signori 13-9 Dove è bello? Non ho capito dove sta Non avevo capito Se stava giù o sopra Minchia Avrò mi ha fatto tutti sti danni E lui era pure ferito Certo che c'è 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 L'avevo sentito Muori Vediamo un po' gli altri Muori Grande Andiamo Un 16 Quello Di tra noi sta A 10 Cacchio Con la balestra Minchia La voglio pure io Vabbè ci abbiamo uno a B Lo siamo immediatamente Immediatamente Dai ma Ma chi è che lancia la grana? Guarda questo che culo E poi passa pure Oh ma devi morire Devi morire Mamma ma che culo Raga che scarso Andiamo di qua Là non ci voglio andare Perché la muoio Andiamo di qua che so Più o meno No il trucco Per vincere Per fare i kill Ma So più o meno Gli spawn dove possono stare Quindi Quindi not bad Andiamo a vedere Mamma mia Comunque è una partita Schifosa Abbiamo fatto un 13-13 Un 30-13 Ok facciamo un attimo così I nemici Non si trovano E quindi me li devo andare a cercare Non li sento neanche Devo essere sincero Au Oh che stanno Come sto facendo in giro Il girotondo qua Dai però Ma che seccia Che tengo Guarda se ne vanno là dentro Dove stai Grazie Ma spostiamoci Se no Può capire dove stiamo Dove sta l'altro No 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 Cacchio Non sapete E pensate Stavamo da dentro Comunque qua Ce ne sono Ragazzi Tipo due Ne è rimasto uno Ne è rimasto uno Per forza Però non so dove sta Se ne è andato Per forza Comunque non senti passi Ragazzi Non so perché Vai Sono morti tre Uno deve spawnare qua Uno spuona qua Eccolo Se ne è andato di là Mannaggia E bello T'avevo visto Vediamo un poco BOM In testa Che culo Che culo Raga Che culo Stavo per morire No E mo raga Dove stanno Comunque quello Mi sta recuperando Dai Io non li trovo Eccolo Mannaggia L'avevo sentito Vai Stiamo qua Bello Ok Bello Bello quando Ricarichi Bello In testa Mamma mia Cosa che non Mi capitavano Da molto Tempo Eccolo Lo spiegato di turno Signori Mamma mia Oddio Oddio mio Ho spiegato Qua sono Io Veramente Dai Dai Lo posso Ammazzare Non so Chi è morto Non ci credo Non ci posso Credere Raga Possiamo Perdere Possiamo Perdere Minchia Bello Bello Così Raga Bello Così Dai Minchia Stavo Concentratissimo Avevo paura Di perdere Comunque Una partita Abbastanza Diciamo Abbastanza Addormentata Meno male Che c'evo la corazza Perché Comunque Se qualcuno Mi sparava Da dietro Diciamo Mi toglieva La corazza E basta Lo riuscivo Ad uccidere Va bene Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Commentate Conditi Iscriviti Per stare Sempre C'erano I prossimi Di Ciao ciao Mamma Ma quanto è veloce Questa Utro